Un avviso pubblico o bando, se si preferisce, verrà pubblicato nei prossimi giorni dal Comune di Caserta per affidare la gestione dello stadio Pinto e alla gara la casertana avrebbe deciso di non partecipare, come si legge oggi sul quotidiano Il Mattino. Eppure le condizioni imposte dall'amministrazione guidata dal commissario prefettizio Maria Grazia Nicolò non sembrano cambiare di una virgola rispetto al passato e si fondano su una legge neppure troppo recente, datata infatti 2003. A spiegarlo in esclusiva ai microfoni di Teleprima e casertaprimapagina.it è proprio il commissario Nicolò. Guardi, sullo stadio noi abbiamo adottato un regolamento nel mese di agosto, ma non solo sullo stadio, ma su tutti gli impianti pubblici, mutuando quanto già previsto da una norma del 2003, come devono essere disciplinati gli utilizzi degli impianti pubblici, per cui credo che non sia nulla di strumentale, ma sia soltanto un percorso che la legge impone. L'utilizzo dello stadio pinto sarà sottoposto chiaramente ad un avviso pubblico, l'avviso pubblico in base al quale saranno poi previsti dei punteggi. Il problema a me dispiagge che sia accaduto tutto questo con la casertana. Il Comune ha soltanto chiesto, prima di rilasciare l'autorizzazione, il pagamento di una tariffa, tariffa già approvata con atto deliberativo. Nel corso degli anni noi abbiamo avuto modo di rilevare che, purtroppo, a fronte dei 2.700 partite diurne e 3.200 partite notturne, si procedeva al pagamento di 70 euro per un importo annuale di 1.500 euro. Siccome all'interno dello stadio operano dei custodi, ci sono chiaramente servizi di pubblica illuminazione che paga il Comune, di acqua e finora è stato sempre utilizzato come un servizio a domanda individuale. Un servizio a domanda individuale in un Comune di sé Stato deve coprire il 36% del costo dei servizi. Si è soltanto chiesta alla casertana che, devo dire, in verità, da quando si è insediato il commissario, ha sempre pagato l'importo dovuto come da delibera, quindi 2.700 e 3.200. Si è soltanto chiesto che il pagamento venisse effettuato in anticipo, ma solo per una ragione, perché ogni autorizzazione deve essere preventivamente, chiaramente, preceduta da atti necessari, quali il pagamento della tariffa, non è che si può pagare dopo, è stato fatto soltanto questo. Ma in verità, nell'ultimo periodo della Commissione, seppur in ritardo, mi hanno sempre pagato. Una cifra inadeguata, secondo il commissario. Il perché la casertana pagasse solo 70 euro a partita lo sanno in pochi. Forse perché, nel frattempo, il club di Viale Medaglie d'Oro si è accollato spese di gestione extra. Pretendendo poi di non dover pagare più la cifra piena, sarebbe un po' come se un inquilino in affitto rompesse la caldaia e la ricomprasse a spese sue, rifiutandosi poi di pagare l'affitto. Ma io non ritengo che sia un atteggiamento questo del Presidente Corvino. Noi abbiamo anche provato a chiamarlo stamattina, il Vice Commissario ha provato anche a telefonare per fare un incontro. Io sono sempre per il dialogo e per la mediazione, chiaramente nell'ambito delle procedure e delle rispettive competenze. Non abbiamo alcuna difficoltà a consentire alla casertana, anzi ne siamo anche fieri, chi gioca all'interno dello stadio. Però sarebbe anche giusto mettere l'ente in condizioni comunque di poter assicurare il rispetto delle norme, così come da, ripeto, da legge del 2003, non è che ce lo siamo inventati nel 2015. Insomma, il Comune non sembra lavarsene le mani, ma non transige sul rispetto delle norme. Ora la palla passa alla casertana per due motivi molto importanti. Primo, perché ci sono gli abbonamenti e i tifosi si aspettano di giocare al pinto. Secondo, perché lo stadio è pieno di pubblicità e si presume che la gestione pubblicitaria sia a carico del club che con gli sponsor dovrebbe avere dei contratti iscritti per l'intera stagione.